l'ora blu è ospitato nell'omonima libreria in viale de mille a firenze ormai da qualche anno un gruppo di amici di persone che si incontrano e parlano di libri aperto a chiunque tutte le volte discutiamo un libro nuovo può venire chi l'ha letto chi non l'ha letto sono incontri molto semplici un'ora un'ora e mezzo per parlare di libri fra persone certamente malati di libri